Se vi dicessi che un SUV da 2 tonnellate, un 3.000 turbodiesel, è capace di percorrere ben 50 km con un litro, mi prendereste sicuramente per un cialtrone. Eppure in discesa, a folle, quel SUV magari percorre pure più di 50 km con un litro di carburante. Ebbene, nel settore automobilistico ci sono delle regole ben precise per cui il consumo dichiarato dal produttore non può essere troppo lontano da quello effettivo e in condizioni reali. Nella videoproiezione invece le regole sono un pochino meno rigide e lo vediamo proprio nel dato del flusso luminoso misurato in lumen, ovvero tutta la luce emessa da una sorgente luminosa come una lampadina oppure un videoproiettore. Sulla scatola di una lampadina, assieme al flusso luminoso emesso quasi in ogni direzione, c'è l'indicazione della temperatura colore in gradi Kelvin che ci dà anche un'idea del colore della luce emessa dalla lampadina. Nei proiettori invece il produttore può indicare anche solo i lumen e questo lascia tantissimo spazio alla creatività. Nei proiettori per misurare il flusso luminoso basta un luxmetro, uno strumento che misura l'intensità della luce che passa per uno specifico punto. L'unità di misura è il lux. Per la misura si proietta un'immagine test con un quadro completamente bianco, si sceglie una distanza e con la sonda rivolta verso il proiettore, verso la luce, si misurano alcuni punti sullo stesso piano, sempre alla stessa distanza. Per calcolare i lumen si moltiplica la media dei lux per il valore in metri quadrati dell'area virtuale illuminata dal proiettore. Ipotizziamo che nel mio caso io ho misurato una media di 750 lux per 4 metri quadrati, ovvero un'immagine di 2,65 metri di base, quindi 750 per 4 sono 3000 lumen di flusso luminoso. 3000 lumen è anche il flusso luminoso dichiarato dai tre video proiettori di LP che BenQ Italia mi ha messo a disposizione per il webinar su lumen, LED lumen e laser lumen dello scorso aprile e di cui trovate il link qui in alto. A sinistra abbiamo il BenQ X1300i con sorgente LED fosfori, risoluzione nativa Full HD, tempi di latenza in appena 8,3 millisecondi e un rapporto di tiro compreso tra 1,3 a 1 e 1,56 a 1. Al centro c'è il V6000, un proiettore a tiro cortissimo con una sorgente luminosa laser fosfori, un rapporto di tiro di 0,25 a 1 e una tecnologia che si chiama DLP XPR che permette di utilizzare un singolo DMD Full HD per riprodurre immagini a risoluzione nativa 4K. Infine a destra abbiamo il BenQ TK 700 STI, un lampada scarica tradizionale che è basato sullo stesso motore di LP XPR del V6000. Ha una latenza di appena 16 millisecondi e un rapporto di tiro compreso tra 0,9 a 1 e 1,08 a 1. Per illuminare uno schermo da 2 metri di base deve stare a una distanza compresa tra 1,80 m e poco più di 2 metri. Il valore del flusso luminoso e il colore soprattutto della luce dipendono fortemente dalle impostazioni predefinite. Ovvero se scelgo l'impostazione cinema oppure quella soggiorno è altamente probabile che il flusso luminoso e i colori cambino in maniera drammatica. I 3000 lumen si riferiscono alle impostazioni predefinite bright o soggiorno con un bilanciamento del bianco che come potete vedere tende al giallo verde o al verde ciano con una qualità d'immagine decisamente molto lontana dal riferimento. Selezionando invece le impostazioni cinema il bilanciamento del bianco e i colori si avvicinano molto di più al riferimento ma il flusso luminoso in questo caso scende in maniera sostanziale e in maniera anche diversa nei tre proiettori. Per fare un esempio il flusso luminoso del V6000, quello a tiro cortissimo, è compreso tra i 2800 lumen in modalità bright e scende fino a 500 lumen quando viene messo in modalità eco e con il filtro colore DCI. D'altra parte 500 lumen sono più che sufficienti per illuminare schermi da due metri di base. Il flusso luminoso e il colore del bianco non sono però gli unici parametri che devono essere presi in considerazione. C'è un altro altrettanto importante che è la proporzione tra l'intensità del bianco e quella dei colori, soprattutto quelli primari, il rosso, il verde e il blu e che nel caso dei proiettori di LP con chip singolo dipende dalle scelte progettuali e dall'implementazione del famigerato Brilliant Color. Una soluzione che consente di bilanciare la potenza luminosa tra i colori più saturi e anche quelli meno saturi e la scala di grigi ma che è la classica coperta troppo corta. Secondo gli standard televisivi il rosso deve avere un'intensità che è più o meno il 20-21% rispetto a quello del bianco, il verde circa il 72% e il blu più o meno il 7%. Ebbene ci sono proiettori di LP soprattutto nel settore business con lampada tradizionale che danno molto più spazio all'intensità della scala di grigia e del bianco e meno molto meno ai colori. Magari sono proiettori ottimi per presentazioni in PowerPoint con sfondo bianco, un po' meno per applicazioni home cinema. Nella nostra sala possiamo osservare a sinistra il BenQ X1300i con sorgente LED fosfori e con colori molto profondi, soprattutto rosso e blu e soprattutto con la giusta proporzione di intensità rispetto al bianco. A destra invece c'è il proiettore con la lampada scarica tradizionale, con colori meno luminosi e anche con saturazione decisamente inferiore. Comunque più che sufficiente per riprodurre il Gamut REC BT709, ovvero quello dello standard dell'alta definizione. In un confronto fianco a fianco con immagini reali a parità di flusso luminoso il proiettore con la giusta proporzione tra il bianco e i colori sarà quello che ci sembrerà più luminoso, ancora di più quando si tratterà di riprodurre immagini con colori molto più saturi. Ora c'è un altro particolare da sottolineare quando si valuta il flusso luminoso nelle caratteristiche tecniche, perché più di dieci anni fa, quando arrivarono i primi proiettori sul mercato con sorgente luminosa LED a stato solido, LED RGB, quasi tutte le aziende produttrici non dichiaravano più il dato reale dei lumen, il dato reale tra virgolette perché poi insomma era comunque preso in maniera un po' estrema, bensì moltiplicavano il dato grezzo comunque misurato per un coefficiente fino a due volte e mezza il dato reale. Questo succede per colpa, loro malgrado, di due fisici tedeschi, Kuhl Rausch e soprattutto Hermann von Helmholtz, uno dei padri della fotometria. L'effetto HK che porta ai iniziali dei due fisici ci dice che a parità di intensità luminosa misurata un colore ad alta saturazione ci apparirà decisamente più luminoso rispetto ad un altro a bassa saturazione oppure senza saturazione come un grigio. Questo effetto però non è legato necessariamente ad un tipo di tecnologia o di sorgente luminosa, ma in effetti è notorio che proiettori con sorgente luminosa LED o laser sono in grado di generare colori con saturazione decisamente più elevata rispetto a un proiettore a lampada. Diciamo che in maniera piuttosto superficiale per non dire peggio o per proprietà transitiva generalmente la gran parte dei costruttori aumentano arbitrariamente il valore di lume misurati già in condizioni assurde e ben oltre i limiti della decenza fino a due volte e mezza quando si tratta di proiettori LED o laser. Questo fortunatamente non è il caso di BenQ che dichiara i lumen massimi reali effettivamente misurabili. C'è anche da sottolineare che, visto che quasi nessuno rispetta le regole, se un produttore indicasse i lumen reali con un bianco del giusto colore verrebbe purtroppo schiacciato dalla concorrenza. Ora tornando all'effetto HK è vero che il rosso di un proiettore a lampada come il BenQ a destra, il 700ST, ci apparirà decisamente più scuro rispetto al rosso del proiettore con sorgente LED. Ma è altrettanto vero che i lumen, i famosi 3000 lumen dichiarati dal costruttore si riferiscono al bianco e soltanto a questo. E in questo caso la situazione è ben diversa, ovvero il bianco del proiettore a lampada, misurando 3000 lumen, sarà identico per intensità al bianco del proiettore LED che abbia lo stesso 3000 lumen. Qual è quindi la sostanza? Innanzitutto spesso i lumen dichiarati dalle case sono decisamente sovrastimati e in condizioni reali di utilizzo, ovvero selezionando una delle modalità predefinite con qualità d'immagine adeguata alle necessità, il flusso luminoso reale può scendere anche in maniera sostanziale. L'altra notizia è che i lumen si riferiscono soltanto al bianco e non ci dicono nulla sui colori, sulla saturazione o sulla loro intensità luminosa, per esempio. Ora ci sono proiettori di fascia molto elevata in cui il flusso luminoso reale, quindi con il bianco e i colori giusti, scende soltanto di un 10%, in altri casi invece può anche dimezzarsi, ma anche peggio. Insomma non c'è una regola precisa, quindi per evitare brutte sorprese posso soltanto consigliarvi di documentarvi, quindi leggendo con attenzione i parametri più importanti, quindi non solo il flusso luminoso, da chi queste misure le fa davvero, come su AV Magazine, ma non solo, anche su altre testate giornalistiche online. L'altra possibilità è di andare a vedere questi proiettori con i vostri occhi presso uno dei punti vendita che li ha a disposizione, d'accordo? Mi rendo conto che in questo periodo storico potrebbe essere appena più difficoltoso, eppure vi assicuro che la realtà c'è, è possibile e anche in piena sicurezza. Per approfondimenti sugli argomenti che ho trattato vi lascio in descrizione un paio di link a guide e articoli tecnici pubblicati su AV Magazine e anche il link al prossimo webinar in programma giovedì 20 maggio su videopressione, tv e tempi di risposta. Inoltre se avete domande o suggerimenti su nuovi argomenti da trattare su tv, proiettori, audio, scrivetecelo nei commenti. Volete sapere per esempio quanti lumen servono o come si calibra un televisore? Bene, fatelo nei commenti. Nel frattempo buona videopressione a tutti!